Limer coin è un gioco di simulazione mineraria in cui tu, un limer, nell'organizzare il tuo spazio, le operazioni di mining strategiche e la gestione della tua capacità di potere, puoi estrarre criptovalute e guadagnare denaro. Per ottenere più potenza ed estrarre più criptovalute, usa i miner del mercato. Ogni minatore ha le sue dimensioni e la sua potenza. I miner influiscono sulla tua potenza totale e quindi sulla capacità di mining. Puoi ottenere potere aggiuntivo vincendo le partite. Questo potere si aggiunge alla tua potenza totale in modo da poter estrarre più criptovalute. È una ricompensa temporanea, ma il potere gratuito non è buono. In questo modo hai il tuo spazio organizzato, i rec e i minatori acquistati, le partite giocate e l'energia allocata. LMT, BTC pool, gli utenti ottengono una percentuale appropriata della ricompensa dei blocchi minati in arrivo. Rec e minatori sono una buona combinazione per distribuire più potere e guadagnare di più. L'Imercoin è un gioco di simulazione mineraria in cui tu, nell'organizzare il tuo spazio,